Benvenuti in questo nuovo episodio del nostro podcast senza filtri Alla fine abbiamo scelto questo nome e mi piace il fatto che si collega al video importantissimo che abbiamo fatto su 2players Ma mi piace anche il significato perché da una parte ci siamo noi senza filtri Perché come vedete l'editing praticamente è inesistente in questo format e ci sta perché stiamo parlando così faccia a faccia Sia perché non ci sono dei filtri tra noi e voi e quindi c'è un rapporto molto più diretto dove appunto chiacchieriamo Quindi questo è un po' il significato che abbiamo deciso di dare al podcast Secondo me ci sta benissimo sono super contento e mi piace anche un sacco la sigla Cioè sono tipo contentissimo La sigla è bellissima L'abbiamo fatta a tema lo fai perché ci piace tantissimo Lo fai? Lo fai? Io non ho mai capito come sti pronunciando così Ci piace tantissimo e quindi ho detto facciamolo e boh speriamo che vi piaccia Comunque sigla e iniziamo Oggi puntata monotematica sulla scelta delle scuole superiori Ma secondo me sarà interessante anche per chi ha già fatto questa scelta Ed è nel percorso diciamo dei 5 anni della scuola superiore Perché andremo un po' oltre la scelta in sé per sé e cerchiamo di parlare un pochino Come sempre voglio precisare una cosa Non vi diamo delle risposte assolute Sono degli spunti su cui riflettere Non esiste una risposta assoluta proprio perché come vi avevamo già detto nei discorsi episodi È una scelta che ognuno deve fare per sé Proprio perché ognuno di noi è totalmente diverso Quindi noi ci limitiamo a dirvi le nostre esperienze di vita A darvi qualche consiglietto e dopodiché voi dovete fare le vostre scelte E questo è un po' il senso Mi dispiace ma dovete prendere le scelte voi Sì non esistono risposte assolute Non penso neanche che siete qui per cercare quelle Ma semplicemente per trovare anche degli spunti di discussione e di riflessione Esattamente Allora è un bel argomento È un bel argomento Premessa io sento di aver sbagliato scelta Anche io Quindi nello specifico io ho scelto lo scientifico E sento di aver sbagliato Poi vi spiego dopo perché Pure fare senza aver sbagliato Quindi partiamo con due persone Che hanno sbagliato la scelta della scuola superiore Esatto E secondo me già qua c'è la prima informazione Ovvero non è così importante forse La viviamo come una cosa importantissima Te la fanno vivere come una cosa importantissima Te la fanno vivere come una cosa importantissima Perché giustamente pensi Se devo fare magari l'università di informatica Devo fare l'università come so In medicina Devo fare determinate scuole superiori Assolutamente ti dà un vantaggio Assolutamente è importante Perché cambiano diciamo le cose che impari di più Quelle dove vai più avanti E quindi dove ti senti più pronto Poi per l'università Ma nulla è così Secondo me travolgente Da proprio rendere impossibile ogni cosa Oltre al fatto che il grande impegno E la voglia davvero di Di spaccare tutto Di impegnarsi Di fare Di studiare Di apprendere Può battere qualsiasi scelta Secondo me Assolutamente sì Quindi esempio al volissimo Scelgo il liceo scientifico Perché penso che sia la cosa giusta per me Dopo due anni mi rendo conto Che non è così E che sarei stato meglio In un liceo linguistico Il cambio lo posso fare È difficile Assolutamente sì È un gran casino Devi in un certo senso Recuperare due anni Ma non è impossibile E quindi puoi ancora cambiare Oltre al fatto che puoi fare una scuola superiore Dopodiché far totalmente qualcos'altro All'università Come capita addirittura Ancora più avanti Che uno fa pure l'università Si prende un determinato tipo di laurea E poi lavora in qualcosa Che è totalmente diverso Quindi in primis È una scelta importante di vita? Sì È una scelta fondamentale Che in assoluto Ti blocca E non ti permette Di fare nient'altra vita? No Quindi ok E questa è la prima premessa Dopodiché Secondo me non esiste una scelta giusta Perché Non credo Che la scuola superiore In nessun modo Possa appunto incidere Il lavoro che farai Ok E soprattutto Una scuola superiore A tante materie È davvero difficile Che scegli un pacchetto completo Che ti piace Ma va vissuto anche così Va vissuto anche come un posto Dove devi imparare Ad affrontare anche ciò Che non ti piace E vi faccio un esempio Scuola scientifico per me Mi trovo in mezzo al latino Ed è pure parecchio importante latino Al liceo scientifico Sì 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 E io odiavo il latino Odiavo il latino Con tutto me stesso Dal profondo del mio cuore Perché lo trovavo inutile Perché non mi piaceva Bla 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 Ok Ma è utile affrontare questa cosa È utile Perché nella vita Non è che fai 24 ore su 24 Ciò che ti piace Ma assolutamente no E ciò che per te è perfetto Anche noi nel nostro lavoro Ci troviamo ad avere tante cose Che sono una rottura di scatole Che dici Sì la voglia Che palle Dovrò devo fare sta cosa Sì Devi farla Perché fa parte del pacchetto completo Esempio stupidissimo Se sei un youtuber Sei in partita IVA Dopo che in azienda La parte fiscale Non è che dici Ah no Guarda a me non interessa La butto lì Chi se ne frega Poi arriva lo stato E arrivederci Grazie Sei obbligato ad affrontarlo Quindi secondo me Il liceo Ma comunque Qualunque tipo di scuola superiore Va vissuta come un posto Dove non ci deve essere Il pacchetto completo Ma anche ciò che non ti piace Ti sarà utile per la vita Perché dovrai imparare A far bene Anche su ciò che non ti piace Non solo su ciò che ti piace È un po' Si hai capito Perché è un po' contorto Sì sì no Infatti ti ho lasciato parlare Non ti ho interrotto Perché ho capito Che era un discorso Abbastanza complesso da esprimere Quindi ho detto Poi magari ti incasini E ti perdi No però si hai capito il concetto E quindi magari il liceo scientifico Mi piace per tutte le materie Non era così Poi vi spiegherò Ma non mi piace il latino Benissimo Ho un pezzo che non mi piace Mi servirà anche quello E allora affronto anche il latino Con una visione positiva Con una visione del Devo riuscire a superarlo Perché sarà anche questo La mia vita in futuro Ok quindi era un po' Questo concetto Prego Devo raccontare un po' Sì racconta Allora no ragazzi Ripeto vorrei avere un consiglio Fighissimo da darvi Ma non ce l'ho Perché per me è stato un disastro Allora Parti dal presupposto Parti dal fatto di cosa volevi fare tu In realtà No no parto ancora prima Ok Non ho mai fatto orientamento Ok Sulla scelta delle scuole superiori alle medie Che spero che adesso La facciate tutti Venga preso un po' più seriamente Non lo do per scontato Ma spero che la facciate tutti Esatto Io quindi comunque Dirò poi la mia scelta Quella che era la mia scelta principale Partendo dal presupposto Che ingenuamente Da bambina piccola Quale ero Tipo a dieci anni Non sapevo neanche quali erano Tutte le scuole superiori esistenti Perché comunque Sai che internet Praticamente non ce l'avevamo Quando eravamo molto piccoli noi Quindi non potevi neanche googlare Per trovare una soluzione Parti dal presupposto Che io davvero Andavo dai miei genitori Sì ma quali sono le scuole superiori disponibili E non me lo sapevano dire Perché ne sapevano meno di me Ci doveva sicuramente pensare la scuola Sì ma non è stato fatto Ok Cioè i miei professori Se ne sono lavati le mani Non ci hanno fatto orientamento Quindi ero confusissima Però Cioè non avevo idea Almeno oggi su questo Se proprio non ve la fanno Ma spero che la facciate tutti quanti Spero che si faccia ragazzi Almeno avete internet E potete leggere Io comunque avevo questa costante sensazione Di sentirmi totalmente persa Perché dicevo Ok devo scegliere Ma non so neanche quali sono le mie scelte possibili Io comunque volevo fare Il liceo artistico Perché mi piaceva tantissimo disegnare Soprattutto da bambina E ho letto commenti Che parlavano proprio di questo Quindi per quello è importante Esatto Praticamente ci dedicavo Si mi è interrotto Per sul filo del discorso Ci dedicavo tantissime ore da bambina Ero anche abbastanza brava Poi stupidamente Avendomi fatto fare un'altra scuola superiore Ho smesso di disegnare Perché posso dirlo Mi ero incazzata come una faina Ce lo posso dire Ero arrabbiatissima Quindi me la sono presa con i miei genitori Da lì ho smesso di disegnare Ed è una cosa di cui poi mi pento Col senno di poi Perché non dovevo reagire così Ma da ragazzina qual è Si fanno anche scelte sbagliate È normale I miei genitori però Anzi mia madre Penso che se ne fosse occupata lei al tempo Mi è iscritto al liceo pedagogico E questo perché Perché la mia insegnante Delle scuole medie Ok Praticamente quando doveva dare i suoi Famigerati consigli Aveva fatto I ragazzi al liceo scientifico Le ragazze al liceo pedagogico Quindi quando mia mamma Non sapeva bene dove indirizzarmi Perché mi diceva No il liceo artistico è inutile Ma cosa ci vuoi fare Con i disegni e tutte queste robe Alla fine ha dato a scolto La professoressa E mi ha iscritto al liceo pedagogico Cioè io gli ho rinfacciato Tutti gli anni delle superiori Dicevo costantemente anche Che volevo cambiare E non mi faceva Io ho finito il primo anno Ho detto Mamma voglio cambiare scuola Non mi piace Non mi ci trovo Non mi ha fatto cambiare scuola Quindi alla fine Ho finito i miei cinque anni Delle superiori Non mi sono mai fatta bocciare Perché ho detto Voglio finire il prima possibile Non mi piaceva Non mi trovavo bene In quella scuola Era una scuola comunque Anche femminile Quindi ti lascio immaginare Non so Ragazzi Però è conto come in ogni cosa È un altro argomento Esatto È un altro argomento Però ho subito molto anche La cattiveglia Tra virgolette Che si crea Quando ci sono solo ragazze E non mi è piaciuto per niente Mi ha impedito di fare Quello che voglio nella vita No Perché comunque ho trovato Un lavoro che mi piace Sono comunque riuscita A crearmi la vita Esattamente come la volevo Quindi ragazzi Partite dal presupposto Che io ho fatto una scelta Totalmente sbagliata per me stessa Non era minimamente Quello che volevo seguire Ma comunque Sono riuscita a trovare Il mio posticino Quindi Non mi ha diciamo Chiuso tutte le porte della vita Questo voglio che sia importante Da capire Da percepire Come diciamo sempre Va bene anche fallire Va bene anche sbagliare Sì È stato un enorme Io l'ho vissuto come un enorme fallimento E sono pezzi del puzzle Di una vita intera Che è molto più grande E molto più lunga La cosa importante è sempre Riprendersi Darsi da fare a un certo punto Esatto Capirsi Capire dove si vuole andare E da quel punto in poi Iniziare ad impegnarsi Allora si recupera Tutto il tempo Che si è perso Nel fallire Nel sbagliare Ma quel fallimento E quel sbaglio Vi danno la possibilità Di capirvi meglio E di poi andare La strada giusta E a quel punto recuperate Nel mio caso invece Mi avevano detto Di non andare I professori Ok Alle scuole medie Abbiamo detto Di non fare liceo scientifico Perché comunque Non mi impegnavo troppo a scuola Ok Ok Sì ci sta Però a me piaceva la matematica E li ho totalmente ignorati Ok Io invece ho subito La scelta di qualcun altro Ok Non solo mi sono trovato male Con il latino Ma anche con la matematica Perché Alle scuole superiori La matematica cambia drasticamente C'è la matematica teorica Che non mi ricordo più Come si chiama Che io non so Se tu hai mai fatto È terrificante Come c'è poi La geometria teorica Allora esatto C'è tipo il Il pedagogico Quando l'ho fatto io Che sera Ti faceva fare un po' di tutto Esatto Ti faceva fare un po' di tutto Quindi ti dava un po' di nozione Di tutto Niente di troppo approfondito Però comunque ti dava Anche questi Allora tu pensa Ok la regola della matematica Per cui devi spiegare Il motivo per cui Tipo Se sommi gli addendi Il risultato non cambia Lo devi spiegare A voce Ok Con tutto il procedimento Quella roba l'odiata Come Dal profondo del mio cuore E io le facevo pure Ste cose Quando poi Almeno dico Fammi fare le materie umanistiche Che poi mi piacevano pure C'era una matematica Allora C'era una matematica diversa Da quella che mi aspettavo Quella teorica C'era la geometria teorica Che stavo letteralmente odiando E latino Che non sopportavo Mi sono proprio schiantato Dritto di testa In una scuola Che non mi è minimamente piaciuta E ho cambiato In scienze applicate Che praticamente Non aveva latino Aveva un pochino Di più di scienza Quindi biologia Chimica eccetera eccetera Erano un pochino Di più Io facevo anche quelle Ti rendi conto di quanto Era inutile Era un pochino di informatica Insomma era un po' più adatto Però appunto Avevo fatto la scelta sbagliata Pensando di fare la scelta giusta Perché mi piaceva la matematica Invece poi ho fatto una matematica diversa Perché io dico Quando sei molto molto giovane Ma è impossibile Finisci le scuole Medi che hai 13 anni praticamente 13 Magari 14 Per me è più difficile Azzecarla che non azzecarla Appunto Cioè come puoi Gli adulti poi comunque Non è che sono così bravi A darti un consiglio Anche perché poi come fanno Come fai a riassumere 5 anni Esatto Dovrebbero decidere comunque Per quello che tu vorrai essere Quindi non per quello che sei oggi Ma per quello che vorrai essere È difficilissimo Ma poi è difficile proprio Riassumere Quello che può essere Cioè vedete che anche adesso Non mica sono riuscito a spiegare Quei tanto bene Qual è la parte di matematica Che si fa in scuole superiori È un casino Perché sono 5 anni di scuola Di tutto lo studio Ogni materia ha le sue cose Insomma è un gran casino Fatto sta che Io praticamente Alle elementari Adoravo La matematica E odiavo Ad esempio Tutte le materie umanistiche Il contrario Siamo l'opposto Mentre le scuole superiori Ho adorato le materie umanistiche Adoravo filosofia Adoravo storia Adoravo tutte E tuttora E tuttora lui legge libri di filosofia Cioè per farvi capire E non legge di certo libri di matematica Quindi Insomma si cambia pure E questo Complica ulteriormente E comunque Diciamo che Per chiudere un po' Perché in effetti Mi avevo detto Cioè tendenzialmente È probabile che sbaglierete Ma non sarà così grave Sbagliare No esatto ragazzi Cercate Il consiglio che vi posso dare È Cercate di fare la scelta Ascoltando voi stessi Quindi se anche magari C'è un genitore E cercando magari di informarvi un po' Su quello che è il Ciò che andrete a studiare Negli anni Ok per capire un po' meglio Quello che volevo infatti andare a dire Cercare di non farsi influenzare O comunque magari Se un genitore ti dice No secondo me è meglio questo Provate a spiegare la vostra scelta Perché io comunque Non è che l'avessi fatto Così tanto E il dialogo secondo me È sempre la soluzione migliore Per cercare di capirsi E per venirsi incontro Anche con i genitori E quindi è quello Cercate di fare La scelta migliore per voi Se poi vi rendete conto Durante il percorso Che non ci siete riusciti Non è un dramma Cioè non sarà la cosa più bella del mondo Certo perché anche io L'ho vissuta male Quindi l'ho capito Esperienza utile Ma esatto Non è stata diciamo Quella cosa che mi ha rovinato la vita Ragazzi assolutamente no La cosa invece importante Che cerco di darvi È imparate il prima possibile Ad impegnarvi A essere organizzati A essere bravi A trovare sempre una soluzione A un problema Ad affrontare le cose problematiche Quello che si chiama il problem solving Ragazzi se riuscite a impararlo Da giovanissimi Vi salva la vita Perché nel lavoro è fondamentale Nessuno te lo dice questo Ma nel lavoro Saper risolvere i problemi Perché non si può sperare Di vivere una vita In cui i problemi non esistono È impossibile E purtroppo ti mettono in testa questa Hai dovuto avere la vita perfetta Senza problemi Senza niente che mi succede Quando invece dovete acquisire La capacità di risolverli i problemi E appunto poi di saper lavorare Anche con gli altri Che è una cosa che A scuola non ti insegno Anzi ti mettono in competizione Ma sono altri discorsi Sono tutte cose che Vi serviranno in qualunque lavoro Che siate un dottore Che siate un ingegnere Che siate Qualunque lavoro vi viene in mente Davvero tutto 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 Sono delle cose che davvero vi serviranno Quindi il saper lavorare duro Il saper vi impegnare Il cercare di capire gli altri Il riuscire a lavorare con le altre persone Sono tutte cose che Vi serviranno a priori Allora se vi impegnate anche su questo Mentre state facendo il percorso di scuola Sapete già di star prendendo Diciamo un vantaggio Se così vogliamo chiamare Sì 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 Sono morto E niente Secondo me è tutto qui Non andiamo oltre Sì spero vi sia stato utile Comunque ragazzi Se volete Anche nel raccontarvi la nostra esperienza Fateci domande più specifiche Sì Sul mondo scuola Così poi magari faremo Un'altra puntata Che non è magari monotematica Rispondiamo a più domande Però appunto la dedichiamo Comunque sempre Nel ambito scolastico Perché comunque è un periodo molto importante È molto delicato Molto importante e molto delicato Ci fermiamo Speriamo che vi sia piaciuto E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao ciao